I carabinieri dei NAS di Catania hanno scoperto un'ingente quantità di prodotti alimentari scaduti, rietichettati e reimmessi nei circuiti commerciali locali, ponendo fine ad un congegnato sistema di vendita sotto banco di migliaia di confezioni contraffatte. L'indagine è scaturita da precedenti operazioni di sequestro di prodotti dolciari scaduti, condotti presso una nota area mercatale del centro cittadino e presso un deposito alimentare dell'Interland etneo durante le scorse festività pasquali. A seguito di articolati e minuziosi accertamenti di polizia giudiziaria, sono stati ricostruiti percorsi commerciali, rigorosamente sotto banco, di svariate tipologie di prodotti scaduti, provenienti anche da altre province siciliane, che venivano sapientemente rietichettati e spesso anche riconfezionati, difficilmente distinguibili dai prodotti originali. Il blitz ha interessato diversi siti dislocati nell'area nord dell'Interland catanese e è stato individuato in particolare un deposito attestato ad altre imprese regolarmente autorizzate, dove sono state scoperte decine di migliaia di prodotti confezionati scaduti, che ancora riportavano la vecchia etichetta. Trattasi in particolare di snack alimentari, succhi di frutta e bibite, cioè di alimenti facilmente smerciabili, soprattutto con la vendita ambulante. In un locale attiguo, invece, sono stati rinvenuti i macchinari e le attrezzature utilizzate per la contraffazione delle confezioni scadute, tra cui un sigillatore automatico, un'etichettatrice professionale, diverse bobine di etichette, inchiostri, sverniciatori e circa un migliaio di confezioni appena contraffatte e rietichettate con nuova data di scadenza, pronte per essere rimesse in vendita attraverso i normali canali commerciali. I falsificatori, una coppia di cinquantenni con diversi precedenti penali, sono stati denunciati dall'autorità giudiziaria, ponendo i sigilli e sequestrando in totale oltre 20 tonnellate di merce.